Come si gestisce il bisogno di sangue nelle zone di pace e di guerra? Come aiutare le persone nei paesi dove l'emergenza sanitaria è più difficile? Ad occuparsene sono stati Avis ed Emergency in una iniziativa a confronto tenutasi al chiostro di San Paolo di Ferrara durante gli Emergency Days, moderata dal professor Andrea Franchella, direttore dell'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. È un'iniziativa che è partita da Emergency con il coinvolgimento di Avis relativa alla raccolta del sangue sia in regime di pace che in regime di guerra. Il convegno di oggi cerca di fare un po' il punto sulle problematiche legate alla raccolta di sangue nonché quelle relative alla lavorazione e alla preparazione della stessa per un corretto impiego. Con Emergency abbiamo deciso di affrontare questo tema un po' particolare che non era mai stato affrontato per far capire ancora di più quale sia il ruolo importante che svolgono i nostri donatori qua in Italia e per sensibilizzare semplicemente al fabbisogno che c'è nelle zone di guerra. Intanto Avis ha avviato anche per quest'estate una campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue. Come tutti gli anni partendo anche dalla regione, dall'Avis regionale e dal CRS sta partendo la campagna di sensibilizzazione, la campagna estiva proprio perché tutti gli anni sappiamo che c'è un certo calo niente di preoccupante perché per fortuna la programmazione che siamo riusciti a insegnare e inculcare ai nostri donatori sta avendo i suoi frutti quindi riusciamo ad avere scorte di sangue e di emoderivati però sappiamo tutti che durante l'estate le persone vanno in vacanza quindi il nostro compito è quello adesso di ricordare prima di andare in vacanza venite in Avis a donare.